Allora me lo ricordo come era il tempo, quando ero nel paesetto, la nonna si chiamava Angelica e questa Angelica che gli hanno messo un'angelica, perché quando l'ho conosciuta io... Ma avete la stessa età questa Angelica? E' più giovane? Sì, sarebbe più giovane di me, non lo so, non lo so, ma è più giovane di me. E lavorava alla posta? Sì. E il fratello invece che faceva? Lavorava con il camionista. Ancora mi sa. Il camionista? Sì, con la nuvella, il camion, il prozzo, fu sempre in viaggi... Però siete stati attaccati? Sì, sempre. C'hanno una casa che vanno...